È il giorno della Commissione Antimafia. Audizioni in prefettura per tutta la giornata, focus sulla situazione criminale del Vallo Lauro, territorio della provincia di Avellino, a più alta densità camorristica e malavitosa. A Palazzo di Governo una delegazione della Commissione, oltre alla Presidente Rosi Bindi, presenti tra gli altri Mara Carfagna, Marcello Taglialatela, Marco Di Lello. La Commissione ha ascoltato la relazione dei vertici delle forze dell'Ordine e della Magistratura, dalle procure di Nola, Avellino e Salerno, fino alla Direzione Investigativa Antimafia. Non solo, ricevuti anche alcuni sindaci del Vallo Lauro ed esponenti dell'Associazione Libera. Una serie di audizioni per fare il punto sul radicamento dei clani in Irpini e sulle contromisure da adottare. A delineare il quadro il sostituto procuratore della DDA di Napoli, Francesco Soviero. È importante comunque se la presenza della Commissione Antimafia è qui in città, perché la situazione, voglio dire, è abbastanza delicata da Avellino e provincia. Naturalmente le attività nostre sono tutte, perché la criminalità non si firma. Ci sono stati gli omicidi dal 2013 al 2015 e anche altri fatti di usura, di estorsione che noi registriamo continuamente da parte della criminalità organizzata. Il dato confortante è che i vertici, le associazioni criminali più forti, mi riscaricavo di Graziano, sono detenuti, sono stati condannati quasi tutti. Quello che preoccupa naturalmente c'è il ricambio generazionale che viene costantemente monitorato da parte nostra. Per quanto riguarda la risposta delle comunità del Vallo Lauro, c'è questa risposta civile oppure regna ancora un clima di omertà? Naturalmente c'è un'attenzione, c'è una risposta. Noi facciamo le indagini anche con questa. A volte abbiamo delle difficoltà, ma quello che dico io da tempo è che bisogna poi superare queste difficoltà, questo velo di omertà, perché con il testimonianzo, con la comprensione delle persone, le vittime, i testimoni, si fanno le indagini, si arrestano poi gli autori dei reati, si fanno i processi. Il magistrato non nega che nel Vallo di Lauro ci sia una situazione complessa, ma boccia la richiesta avanzata da alcuni primi cittadini di impiegare l'esercito per contrastare i clan. Ci sono delle emergenze, però non vanno affrontate in questi termini, lo dico da tempo, la presenza dell'esercito nei paesi, nei nostri paesi, nelle nostre città è inutile, ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura, tutti gli organi dello Stato, i rappresentanti locali devono fare il loro lavoro, il loro dovere e così va bene.